Maggio è stato un mese di annunci per la casa cinese Zopo che ha lanciato la nuova serie Color. Questo è Zopo ZP350 Color E, porta bandiera di questa serie. E questa è la recensione completa. Vi abbiamo già raccontato la nostra opinione sul fratellino Milore Color C. In questo caso vogliamo approfondire la nostra analisi di vantaggi e svantaggi del nuovo Zopo Color E. In questo caso abbiamo a disposizione anche il colore rosa che appunto rappresenta bene la gamma variegata di colori messi a disposizione. Sicuramente fuori dagli standard a cui i cenafonini ci hanno abituato. Le principali specifiche tecniche di questo smartphone riguardano l'architettura hardware costituita dal chip Mediatek quad core a 64 bit, un display HD da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel, batteria da 2100 mAh e l'immancabile supporto dual sim. Anche se in realtà riteniamo che anche il design meriti una menzione in questo particolare set di specifiche, perché si tratta di uno smartphone molto sottile e soprattutto molto leggero. Colorate e sgargianti, questi due sono gli aggettivi che calzano a pennello se si parla di Zopo ZP350. Difficile definire diversamente un cenafonino che arriva in 5 colorazioni differenti che vanno dal classico bianco e nero, passando però per il rosa, il giallo e l'azzurro. L'assemblaggio dei materiali è molto buono, conferisce un certo grado di solidità tenendolo in mano e questo anche se stiamo parlando di una costruzione in plastica, come è quasi lecito aspettarsi visto che stiamo parlando della fascia bassa di prezzo. Le misure ufficiali sono 145,9 x 71,4 x 8,5 mm, abbinate a 145 grammi di peso e l'impressione è quella davvero di avere uno smartphone molto leggero in mano, forse più del previsto. Sul fronte del design troviamo anche le ovvie analogie con il fratello Color C, ossia la presenza della cornice colorata che richiama la back cover e il led frontale di notifica, sia bello che elegante, ma anche qualche piccola e apprezzata differenza, come i tasti che sono disposti sul lato destro, ovviamente più apprezzata per le persone che utilizzano la mano destra come mano principale. La back cover è invece removibile e si rimuove con la giusta dose di difficoltà e complice a uno spessore di 8,5 mm si può riconoscere una certa solidità a questo smartphone. Sotto di essa troviamo lo slot per la microSD e per le due SIM, di cui una regolare e una micro. Per quanto riguarda lo schermo, invece abbiamo una differenza davvero notevole da quello mediocre osservato sul fratello minore, poche aumenta la diagonale arrivando a 5 pollici e soprattutto aumenta la risoluzione, una HD da 1280x720 pixel, la cui densità aggiunge quasi ai famosi 300 ppi che definiscono i reti da display. Il sensore di luminosità si adatta bene alle giornate assolate, anche se il livello massimo talvolta può risultare non sufficiente se la giornata è particolarmente luminosa, come in questo caso. All'esterno comunque si comporta bene, ma non dirà dove sarà necessario aumentare almeno all'80-100% la luminosità per poter fluire a pieno del vostro smartphone. Mentre per quanto riguarda la finitura dei dettagli, possiamo dirvi che questa risoluzione non è altissima e non compete con i top di gamma, ma chiaramente si tratta di un ottimo e giusto compromesso tra visibilità dei dettagli e motore che lo muove, quindi il chip quad core che analizzeremo qui di seguito. Come si può osservare da un video, invece notiamo che colori coprono una gamma realistica e si notano tutti i pregi e difetti della tecnologia LCD, ottimo angolo di visione, ma neri non molto contrastati, più vicini al grigio scuro. In particolare ho apprezzato la tecnologia AmireVision, che è una nuova tecnologia di Mediatek che unisce tre tipi di modifica, la colorazione e la temperatura di colori del display. Non ve ne renderete conto direttamente da questo video, ma in generale potranno essere attivate delle funzionalità direttamente dalle impostazioni di sistema. E questa è stata sicuramente una cosa molto apprezzata. Le prestazioni sono affidate al chip Mediatek MT6735, che già abbiamo studiato sul modello minore Zopo Color C. In particolare troviamo un'architettura 64 bit costituita da 4 processori, 1 GB di RAM abbinata a 8 GB di memoria interna, e considerando la dotazione minima di questa fascia possiamo dire che almeno per quanto riguarda memoria interna e RAM ci si comporta molto bene. L'importante, almeno per quanto ci riguarda, è la resa. Con l'utilizzo medio le app non occupano quasi mai il quantitativo massimo di RAM e quindi basta fare pulizia attraverso il famoso carosello del multitasking di Lollipop. La differenza di prezzo tra ZP350 e 330 è rappresentata più dalla frequenza più elevata, in questo caso arriviamo a 1.5 GHz, che aiuta molto di più nella vita quotidiana. Touch che risponde fluidamente, navigazione web molto piacevole, ma in realtà qualche piccolo problemino è rappresentato dalla GPU, che forse comincia a risentare un po' dell'età essendo stata presentata ormai a ottobre 2013. Si tratta di un ARM Mali T720 e andiamo a vedere come si comporta nel videogaming. Gestire giochi come Nova 3, in questo caso Real Racing 3, diventa davvero spesso molto complesso e l'esperienza di videogaming non è certo delle più fluide e piacevoli. Al di là dei dettagli bassi si nota anche una certa scattosità nella riproduzione dei fotogrammi, quindi proprio il numero di frame per secondo che vengono riprodotti a schermo sono molto più bassi. Proprio per questo motivo, se siete interessati più che altro all'esperienza di gioco o meno casual, vi consigliamo di orientarvi su smartphone con GPU prestanti, altrimenti in questo caso potete dettagli anche con giochi molto più semplici. Candy Crush Saga, My Young, Geometry Dash Lite e giochi analoghi non hanno difficoltà per essere riprodotti su questo smartphone e sicuramente potranno garantirvi la giusta dose di passatempo con il vostro smartphone. Per quanto riguarda invece la connettività, il vero punto di forza di questi chip Mediatek è il supporto Dual SIM che si riscontra anche con la connettività LTE sulla prima scheda. In particolare non manca il supporto alla connessione USB OTG, quindi on the go per collegare lo smartphone alla radar disk, penne USB e via dicendo. E possiamo dire che abbiamo riscontrato anche un Wi-Fi sicuramente molto affidabile, anche a grandi distanze dal modem, come in questo caso. Stiamo navigando sulle pagine tecnologici.net, quindi in versione mobile, ma il risultato è stato sicuramente molto apprezzabile. Se la pagina invece è ricca di immagini o di articoli, il caricamento diventa un po' più lento, ma stiamo anche comunque a grande distanza dal modem. Ma volevamo dimostrarvi anche che il funzionamento non cala sensibilmente se siamo ad esempio a 10-15 metri dal modem. In questo caso vi stiamo facendo vedere invece la navigazione sul sito mobile di Repubblica.it che ha qualche difficoltà, soprattutto quando si tratta di utilizzo del browser stock, che nonostante questo ha i punteggi più elevati quando andiamo invece ad analizzare le prestazioni attraverso Vellamo Browser. Sul sistema operativo non ci soffermeremo molto perché abbiamo testato questo smartphone con una ROM ancora non definitiva e che dovrebbe ricevere alcuni bug fix a breve, secondo quanto ci ha dichiarato l'azienda cinese. In particolare vi ricordiamo che però stiamo parlando di Android Lollipop 5.1, quindi la release più avanzata e più recente, sempre escludendo Android M che è solo in fase di preview, in cui troviamo l'interfaccia ZUI che si mostra molto più fluida che sul gemellino, probabilmente dovuta appunto ad una maggiore frequenza del processore e ad una migliore gestione delle risorse. Una grafica in material design che si fa apprezzare per lo stile minimale e soprattutto per le fluidità che possiamo osservare appunto attraverso le transizioni da una scherma dall'altra. In generale possiamo anche dirvi che il menu è davvero ricco, qui vi mostriamo appunto le impostazioni di Miravision, che sono quelle di cui vi abbiamo parlato durante la spiegazione sul display. Piccola menzione sulla tastiera che è quella stock di Android, infatti troviamo una ROM molto pulita senza particolari personalizzazioni da parte del produttore. Questa si comporta abbastanza bene anche se talvolta perde qualche piccola digitazione, ma in generale si comporta molto bene grazie al correttore automatico che aiuta moltissimo. La fotocamera invece migliora sicuramente quanto visto nel modello di categoria inferiore perché abbiamo appunto un sensore da 8 megapixel con il flash LED. Anche frontalmente troviamo in questo caso una fotocamera da 2 megapixel, anche stavolta con il flash. In particolare l'app fotocamera è quella stock di Android, per cui fornisce funzionalità assolutamente analoghe a quanto avete già visto in milioni di smartphone Android. Come potete vedere nelle immagini riprodotte in questa recensione, la qualità è abbastanza buona finché stiamo parlando di elevata luminosità esterna o interna. In particolare però se andiamo ad ingrandire sui dettagli ci si rende conto che è presente abbastanza rumore digitale che si sostanzia poi in quella grana che tanto avete sentito parlare da molti fotografi e in generale da una finitura di dettagli che perde un po' attorno ai bordi. In linea di massimo però se il vostro utilizzo è quello di condivisione su social network questo fa sicuramente al caso vostro e soprattutto ricordatevi che stiamo parlando di uno smartphone che verrà venduto verosimilmente sotto ai 150 euro. A causa dell'aroma molto acerba possiamo dirvi che effettivamente il consumo della batteria non è stato indicativo essendo molto alternante tra i vari giorni nonostante le attività fossero più o meno simili. In generale però vogliamo dirvi che questo smartphone ci ha colpito per il look colorato e giovanile, per un design sicuramente leggero e fresco se vogliamo. In mano ci è sembrato davvero portatile e soprattutto possiamo anche confermarvi che Android Lollipop 5.1 è sicuramente una chicca per questi cinefonini. Mentre come contro possiamo appunto segnalarvi la presenza del chip Mediatek rodato ma non potentissimo e quindi non particolarmente adatto al videogaming. Con questo si conclude la recensione su tecnologici.net Continuate a seguirci, se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale. A presto! A presto! A presto! A presto!